Grazie a tutti. Siamo online. Sì, cazzo. Il cazzo di mixtape è online. Sì, cazzo. Sei chiaro di te? Tantissimo. Battimi un govito. Siamo, guarda, veramente dopo un anno di lavoro. Guarda, cazzo. Madonna mia. Madonna mia che sofferenza, direi. Ma lo sai per la... cosa c'era? La pubblicità. Eh sì. Cazzo. Oh, e va fatto. Via, dude fa... Però la voglio fare bene. Voglio fare proprio come gli influencer. Sì, sì, sì. Voglio il cazzo di svolitarlo su Instagram. Io ho fatto il mixtape apposta. Allora, quindi come si fa? Sì, io mi immagino già, tipo, stavo lì. È bella, ragazzi, è il nostro... Fate il swipe up. Vai, vai, vai. Come fare il swipe up su Instagram. Vai. E ora? Chi è? Ma chi è lui? È l'unica. Che palle! Dai, dai, dai. Non mi piace questa storia. Te lo dico. Te lo dico, non mi piace. Ma è l'unica. Che devo fare? Risponde? C'è un main. Fa un cazzo! Pronto. Sì. Abbiamo bisogno di te. Ehi! Ma volevate canzoni? Sì, muoviti cazzo, dai! Vabbè, oh, scusa, eh! Allora, ciclo, abbiamo un problema. Dobbiamo trovare un modo molto veloce per accattare follower su Instagram. Un modo ovviamente legale, non so, un video che possa diventare più in poco tempo. Un qualsiasi cosa. Avete idea? Video molto cringe in cui uno dei due fa una madre stessata che si lamenta col figlio in maniera del tutto è naturale. Tutto della nostra terra, del valore di ogni uomo. Nooo. Ma lei, come te lo puoi fare con questa sera? Perché mi voglio buttare in maniera del valore di ogni uomo che faccio una lezzatronica plane station. mia mamma di sempre quel cazzo qua però eh non va mia bene questa cosa qui eh mamma che c***o eh eh ma porca puttana in questa sera faccio tutto io non puoi sapere che sentiamo quel che stiamo diventando io e tu fate questa merda ora io voglio andare via ma io sto tre mesi no non trovo che sei mia dire a te mamma però che balle è sempre qualcosa che mi viene a rubire il cazzo 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 io ho presa sera tra l'altra scuola eh che vuoi che... non sai se fare questa voce per ballare non è stata l'ottima idea perché mi fa malissimo la c***a puttana hai proprio ragione è proprio un video di c***o qua non dovevo proprio farlo che ecco io do questo c***o qua perchè mi fa malissimo e io devo andare insieme a holy cavolo taccomOSS no non funziona ma che c***o di idee ti vengono in mente ma che c***o... va c***are abbastanza devo dire cavolo funzionava ma come funzionava quali pubblico potrebbe vedere qualcosa del giorno e riderci sopra idea,papà e figlio Non ci abbiamo pensato ma è la cosa più semplice è una cosa che va e funziona Spero non sia come la sua che va e funziona perché guarda Scherzi epici finiti male Raga raga scherzo l'elepico al morandi Guardate un po' Ah che dove sono? Oh si l'ora perfetta per una bella partita poi su questo comodo divano Vedrai la prossima volta mi vendicherò Questa è la mia vendetta lì dipende chi non ride mai Basta E' proprio l'idea del cazzo Meggio della mia Anche meno eh Non è una delle migliori però non funziona su internet va benissimo Ma no 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 però credo che effettivamente non funziona Beh io non so cos'altro potremmo fare Moro eh Moro? 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 Ma che stai facendo? Moro? Ma che stai facendo? Moro? 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 Ora sono qui tipo in sala E c'è anche il mio coinquilino Saluta Fedi, saluta i ragazzi Dai eh Ma vai a lavorare coglione E tagliati i capelli Bella raga No ragazzi Fa cagare, non funziona Eh vabbè, ci abbiamo provato Però cazzo Non è così difficile trovare un altro video che funzioni E che allo stesso tempo non ci faccia apparire come Dei completi idioti Via raga, partitina Tutto il giorno che se lo abbiamo sotto gli occhi Grazie 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 Grazie